29 aprile, siamo nel pieno centro domese. Sul luogo di un sinistro stradale con soli danni ai veicoli interviene una pattuglia della polizia locale. Il conducente, che non accetta la compilazione del modulo della contestazione amichevole, viene sottoposto al pretesta alcolemico e poi alla rilevazione con etilometro. Risulta avere un tasso alcolemico di oltre 1,3 grammi litro. Ha più di 80 anni. Risultato? Abbonati a soli 9,90 euro all'anno! Beba Steck House, a Ornavasso.